Oggi siamo ancora in Friuli Venezia Giulia e dopo la visita ad Aquileia proseguiamo su una strada dritta fino al mare. Questa strada affiancata da una bella pista ciclabile si trova su una sottile lingua di terra in mezzo al mare e ci porterà all'isola di Grado. Arrivati sull'isola e passato il porto andiamo direttamente all'area di sosta con tutti i servizi per i camper e a soli 10 minuti a piedi dalla spiaggia. In alternativa ci sono alcuni parcheggi misti con spazi riservati ai camper, senza servizi ma molto economici, solo 4 euro per 24 ore. Tutta la zona è ben collegata da piste ciclabili che usiamo anche noi per arrivare in pochi minuti nel centro storico di Grado. Lungo il percorso troviamo il Parco delle Rose, uno spazio verde tranquillo e ombreggiato proprio dietro alla spiaggia e mentre i bambini si divertono al parco giochi i genitori si possono rilassare sorseggiando bibite fresche. Raggiunto il centro troviamo una località balneare che ha un centro storico vivo tutto l'anno e che ha saputo mantenere un fascino ad altri tempi. Vi sono numerosi negozi e ristoranti ma soprattutto gelaterie che offrono un ottimo gelato artigianale. Nella piazza di fronte al municipio, segnalate da piastrelle bianche, si riconoscono le piante di un antico battistero e della basilica della corte, i cui resti ritrovati agli inizi del 1900 si possono ammirare tramite passarelle trasparenti. I mosaici e i sarcofagi che vediamo si trovavano all'interno della basilica del IV secolo d.C. Molte vie del centro storico di Grado si chiamano ancora Calli e le case restaurate rispettano ancora lo stile veneziano. Ci perdiamo volentieri passeggiando tra i vicoli e le piazzette assaporando un po' di tranquillità e scopriamo quanto amore ci mettono i gradesi per rendere accogliente la loro città. Arriviamo presto alla basilica di Santo Eufemia, sorta sui resti di una chiesa del VI secolo d.C. All'interno ci sono ancora ben conservati i mosaici che formavano il pavimento della vecchia chiesa e che oggi hanno più di 1500 anni. Sull'altare c'è una pala d'argento dorato del 1300 e sul lato ovest della chiesa si vede una nicchia con la statua della Madonna degli Angeli a cui i gradesi sono molto devoti. A fianco della chiesa si trova il battistero esagonale con altri mosaici ben conservati e restaurati. Al centro la fonte battesimale in marmo ci ricorda che un tempo il rito del battesimo prevedeva la completa immersione degli adulti nell'acqua consacrata. Tra la chiesa e il battistero attraverso uno stretto passaggio si arriva al lapidario dove sono stati raccolti numerosi reperti archeologici del III e VI secolo d.C. ma vi sono anche colonne, capitelli e sarcofagi di epoca romana. Tutte le lavorazioni sono state fatte sulla pietra o sul marmo, da qui il nome di lapidario. La chiesa più antica di grado è la basilica di Santa Maria delle Grazie dove all'interno le colonne sono tutte diverse e i mosaici si trovano un metro più in basso rispetto all'odierna pavimentazione. Verso sera il centro si anima di turisti che amano fermarsi a cena nei numerosi ristorantini che servono piatti tipici della tradizione gradese come il brodetto, una zuppa di pesce e le sarde in saor. E tra i vicoli illuminati dai lampioni l'atmosfera è davvero molto suggestiva. Nella splendida luce del mattino scopriamo la diga di grado, costruita già nel 1700 per difendere la città dalle mareggiate. Quella che vediamo oggi, costruita dagli austriaci alla fine del 1800, è molto apprezzata per le passeggiate ma anche come alternativa per prendere il sole o fare il bagno. Noi oggi abbiamo la fortuna di assistere alla cerimonia di consegna della bandiera blu che grado si pregia di ottenere ormai da diversi anni per il suo mare pulito e i servizi ecosostenibili. La spiaggia è ampia e ben attrezzata di sdraio e ombrelloni multicolori. Per coloro che non vogliono separarsi dagli amici a quattro zampe vi sono spazi attrezzati in cui gli animali possono stare liberi insieme ai loro padroni. Non dimentichiamo però che grado è una città di pescatori che si possono vedere indaffarati sulle loro barche ormeggiate al porto, intenti a preparare l'attrezzatura necessaria per la pesca in mare. Grado attira anche molti appassionati di kid surfing, lo sport praticato in mare con una tavola da surf e una vela, che in una giornata di vento favorevole diverte chi lo pratica ma anche chi si ferma ad ammirare le vele colorate gonfiate dal vento. Lungo il litorale una pista ciclabile e pedonale ci porta verso la parte più verde di Grado, dove ci sono molti edifici residenziali immersi nella pinetta. Grado si trova alla fine della pista ciclabile Alpe Adria, che parte da Salisburgo e permette a tutti gli appassionati di cicloturismo di arrivare fino al mare in sella alle loro bici. Magrado è decisamente bike friendly e terminata l'Alpe Adria è possibile proseguire su un'altra ciclabile fino all'isola della Kona, molto interessante per gli appassionati di bird watching, ma anche raggiungere Monfalcone. Oggi di buon mattino prendiamo il traghetto che in circa mezz'ora ci porterà all'isola di Barbana, nel cuore della laguna di Grado. Su questa piccola isola si trova uno dei santuari più antichi del mondo, perché risale al VI secolo d.C. Sembra che allora, dopo una violenta amareggiata, l'immagine della Madonna fu ritrovata proprio sull'isola, dove poi fu costruito un sepolcro che diventò meta di pellegrinaggio. Come ringraziamento alla Madonna per aver salvato i gradesi dopo un'epidemia di peste, dal 1237 si tiene la festa del perdon e una processione di barche porta la statua della Madonna degli Angeli da Grado all'isola di Barbana. La processione si tiene ogni anno nella prima domenica di luglio e termina proprio in questo santuario, che fu costruito agli inizi del 1900 sui resti delle chiese precedenti più antiche, delle quali rimane però la statua in legno della Madonna di un autore sconosciuto. Il santuario ospita nella casa del pellegrino tutti coloro che desiderano trascorrere un periodo di meditazione e preghiera immersi nella natura di questa bellissima isola. Grado è detta isola del sole perché sembra che se in Friuli piove il vento di Grado spazza via le nuvole e fa splendere il sole. Noi l'abbiamo trovata ricca di storia, ordinata e accogliente, luogo ideale per una vacanza tranquilla e rigenerante.